cari amici che come me amate l'arte seguitemi nel bosco delle correnti contemporanee per i sentieri difficili da percorrere da capire ma forse percorsi insieme sono più divertenti e meno ostici le rifiuteremo meno perché oggi parliamo di informale qualche cosa che cordialmente sta sulle balle al 99 per cento delle persone che guardano i quadri ma intanto vi ricordate che qualcuno aveva incominciato a sgocciolare della vernice sui quadri il dripping lo chiamò ebbene qualcuno capì che questa tecnica poteva dare dei grandi risultati quindi oggi parliamo di informale un'arte che più o meno consapevolmente è la risposta artistica che l'europa da alla profonda crisi morale politica ideologica conseguente gli orrori messi in luce dalla seconda guerra mondiale dalla fine della prima guerra mondiale dagli orrori della prima guerra mondiale erano nate le avanguardie storiche dalle orrori della seconda guerra mondiale nascono le nuove avanguardie un movimento artistico disomogeneo che si raccoglie in tendenze più svariate spesso contrapposte nel decennio tra gli anni 50 e 60 e informale si pone in forte polemica con tutto ciò che in qualche modo può essere riconducibile ad una forma cioè nel quadro non si trova più nessuna forma sia essa figurativa ma sia anche puramente astratta informale dunque nega in modo esplicito ogni forma e con essa la conoscenza razionale che ne deriva all'interno del movimento possono individuarsi varie matrici alcune arrivano dall'esperienza dada dall'espressionismo e dal surrealismo questo esplosivo miscuglio delle principali tematiche dell'avanguardia storica scaturisce una concezione dell'arte ironica provocatoria costantemente tesa a negare qualsiasi valore ad ogni attività che presupponga il filtro della ragione passioni tensioni disagi disappunto ira devono essere espressi nel modo più libero più spontaneo e più violento possibile al di fuori di qualsiasi schema precostituito contro ogni regola normalmente accettato l'evento artistico svuotato da qualsiasi residuo valore formale si esaurisce pertanto con l'atto stesso della creazione in questo nuovo contesto assumono fondamentale importanza anche i materiali che vengono impiegati nell'atto artistico essi non sono più un semplice mezzo del quale l'artista fa uso al fine di esprimere le proprie idee ma al contrario diventano i protagonisti stessi dell'opera d'arte superfici rugose superfici butterate che richiamano alla mente sensazioni di spiacevolezza di conflitto oppure superfici morbide levigate che inducono più facilmente alla dolcezza e alla serenità ecco lo strumento è il messaggio se messaggio c'è coincide con l'opera d'arte nell'uno e nell'altro caso le due componenti fondamentali dell'informale si precisano nel gesto e nella materia il gesto viene fortemente enfatizzato già l'aveva fatto dada in quanto si ritiene il gesto l'unico vero momento creativo qualcuno dice l'unico l'arte non è dunque la pittura eseguita a lungo con cura pensata preparata il quadro iniziato sviluppato concluso ma l'arte è l'atto di eseguire la pittura ogni prodotto ma il fare il quadro e arte e se l'arte eseguire un gesto il valore artistico sta nel gesto stesso non più nel prodotto di quel gesto ecco allora che il gesto può essere un gesto qualsiasi non necessariamente un gesto pittorico anzi può essere un gesto simbolico ad esempio taglio la tela un gesto provocatorio pongo la mia firma la firma d'artista sul corpo nudo di una modella o ancora realizzo delle macchie più o meno in formi come lanciando secchi di vernice pennellate facendo gocciolare versando buttando tirando spaccando rotolando sulla tela la materia l'altro grande parametro si trova improvvisamente in primo piano nella sua scelta e in quella di tutti i possibili accostamenti tra materie diverse è lì che l'artista manifesta la propria energia creativa e quindi sceglie per esempio un sacco ruvido è importante il sacco ruvido se noi ci dobbiamo fare dell'arte sopra il sacco ruvido parla oppure un lucido rottame d'acciaio è molto diverso dal sacco ruvido dice cose molto diverse oppure un morbido pezzo di gomma una fredda luce al neo una scheggia di vetro tagliente tutti atti artistici in questo senso l'arte diventa soprattutto scelta e questa nuova visione ne allarga il campo praticamente all'infinito tutto e dico tutto allora può diventare arte così come è possibile che nulla effettivamente sia arte l'artista informale dunque non è più colui che crea nuovi eventi ma colui che sa lasciarli accadere limitandosi magari a favorirne l'attuazione con la spontaneità del caso con la fantasia del sogno emblematico in tal senso è la produzione del tedesco vols che si avvicina alle tematiche informali fin dagli ultimissimi anni della guerra nella tela dal titolo significativo di pittura che è del 45 troviamo già espressa tutte le principali tecniche dell'informale i vortici le macchie di colore evidente riferimento ad un'impostazione di tipo surrealista le esperienze più profonde della psiche emergono come spontanea casualità ovviamente surrealista trascrizione delle sensazioni avviene con un automatismo slegato da qualsiasi intento descrittivo surrealista il disagio esistenziale dell'artista si fa direttamente materia si impasta con colori misti ci si butta della sabbia sopra si salta addosso su questo non c'è nessun richiamo a nessuna figura nessun esempio a nessun paesaggio a nessuno sfondo non c'è primo piano secondo piano non c'è più figura non c'è più forma l'informale comunque naviga e non è un fenomeno circoscritto verso l'europa o meglio l'europa coinvolta dalla guerra in prima persona e la generazione che ha nutrito i sopravvissuti gli sopravvissuti e a livello mondiale ne ha diffuso il disagio profondo era diverso avere vissuto la guerra in europa ed averla vissuta negli stati uniti d'america anche se le nazioni europee e gli stati uniti erano tutti e due in guerra l'informale è proprio l'arte di una incomunicabilità o meglio se la vediamo in una prospettiva un po meno pessimista l'arte è il tentativo in una maniera totalmente diversa da prima di comunicare di nuovo cosa ma molti interessanti sono dunque i svolti informali che maturano nel mondo per esempio in giappone che pure nell'alleanza con la germania nazista aveva coinvolto in una terribile crisi di valori ed identità in particolare dopo bombardamento atomico di hiroshima e nagasaki e degli stati uniti e anche qui le guerre combattute molto diverse gli stati uniti erano usciti vittoriosi dalla guerra i giapponesi distrutti ma gli stati uniti usciti vittoriosi dalla guerra avevano la consapevolezza che era necessario ricostruire al più presto un fruttuoso rapporto di dialogo politico economico e culturale con il vecchio continente ci penso marshall l'arte informale americana legata alle diverse più pragmatiche tradizioni di quel popolo si identifica con la cosiddetta action painting che potremmo tradurre come una pittura d'azione il fare come pittura è un anticipatrice precoce di alcune tematiche europee si sviluppa nel primo decennio del dopoguerra e per le caratteristiche che assume come viene anche definita espressionismo astratto in quanto in essa si coniugano la virulenza espressiva e l'assenza di forme immediatamente riconoscibili il maggiore esponente dell'action painting è senza dubbio lo statunitese jackson pollock la cui vita sregolata stroncata da un incidente d'auto si riallaccia a quella degli artisti bohemian del pieno ottocento e dei primi anni del novecento gli scapigliati pollock uno dei pochi come dire artisti superstare artisti mito dell'ultimo dopoguerra ha una formazione abbastanza irregolare trascinata di malavoglia fra varie accademie e scuole d'arte applicata americane fin dall'inizio risente molto del fascino della pittura popolare messicana e di quella che gli indiani d'america praticavano secondo riti antichisti a scopo magico propiziatorio nel 37 non ha ancora 30 anni pollock è già gravemente affetto dall'alcolismo e deve sottoporsi a varie terapie psicoanalitiche e proprio nell'ambiente medico e culturale il giovane artista a modo di conoscere le ultime avanguardie europee dalle quali rimane immediatamente affascimento dieci anni dopo pollock 1947 mette a punto la tecnica del dripping consistente nel sopprimere il pennello e sostituirlo con sgocciolature più o meno regolari di colori sintetici puri su tele cartoni distesi al suolo in questo modo si ottengono risultati quasi assolutamente casuali generando grovigli di colore filamentosi che si sovrappongono gli uni agli altri in un caotico intreccio di schizzi gocce colature si pensi alla foresta incantata uno dei suoi quadri più celebri dove tecnica e soggetto si amalgamo si amalgamano insieme in un'unica ragnatela vera e propria disegna cosa scrive di questo quadro pollock io dipingo per terra ma non pensate che sia una cosa anomala già gli orientali lo facevano il colore che uso quasi sempre è liquido è molto fluido quindi impossibile da spalmare su un quadro con cavalletto utilizzo i pennelli più come bastoni che come veri pennelli il pennello non tocca mai la superficie della tela resta distante al di sopra e poi nel celebre quadro pali blu realizzato nel 53 si ha un'idea abbastanza precisa di che cosa sia il dripping lavorando concitatamente intorno alla tela disposta per terra pollock schizza con batuffoli di cotone con pennelli da verniciatore e anche con pezzi di legno poi vi cola sopra fili sottili di colore che a seconda del movimento della mano si distribuiscono o si addensano creando zone di maggiore o minore concentrazione quel che nasce un caotico labirinto di segni segni e colore all'interno del quale è lecito che ciascuno immagini ciò che più desidera o al contrario veda ciò che più teme i pali blu del titolo corrispondono agli otto segmenti variamente inclinati che percorrono l'intiro dipinto essi rappresentano gli ultimi elementi geometrici residui attorno ai quali si addensa il convulso assedio delle sgocciolature vario pinte e il grido disperato della ragione sopraffatta da un urlo di irrazionalità la testimonianza più tragica dell'intimo tormento di pollock l'eterno ribelle che amava ripetere ogni buon artista dipinge solo ciò che è l'artista entra definitivamente nella leggenda nel 1956 quando muore in un incidente stradale acclamato come artista maledetto per eccellenza come talento giovane il limitato ed autodistruttivo pollock può collegarsi tra quelle celebrità ribelli a lui contemporanei l'attore james dean anche gli morto vittima di un incidente stradale a 24 anni o lo scrittore jack kerouac per il quale il ricorso all'alcol diventa sempre più sistematico fino al 1969 quando un attacco di ernia non curata chiude un'esperienza umana che sembra assegnata dal riconoscimento del primo e fondamentale principio del buddismo la vita umana è essenzialmente dolore rifiuteremo meno perché oggi parliamo di informale qualche cosa che cordialmente sta sulle balle al 99 per cento delle persone che guardano i quadri ma intanto vi ricordate che qualcuno aveva incominciato a sgocciolare della vernice sui quadri il dripping lo chiamò ebbene qualcuno capì che questa tecnica poteva dare dei grandi risultati quindi oggi parliamo di informale un'arte che più o meno consapevolmente è la risposta artistica che l'europa dà alla profonda crisi morale politica e odologica conseguente di orrori messi in luce dalla seconda guerra mondiale dalla fine della prima guerra mondiale dagli orrori della prima guerra mondiale erano nate le avanguardie storiche dalle orrori della seconda guerra mondiale nascono le nuove avanguardie un movimento artistico disomogeneo che si raccoglie in tendenze più svariate spesso contrapposte nel decennio tra gli anni 50 e 60 e informale si pone in forte polemica con tutto ciò che in qualche modo può essere riconducibile ad una forma cioè nel quadro non si trova più nessuna forma sia essa figurativa ma sia anche puramente astratta informale dunque nega in modo esplicito ogni forma e con essa la conoscenza razionale che ne deriva all'interno del movimento possono individuarsi varie matrici alcune arrivano dall'esperienza dada dall'espressionismo e dal surrealismo questo esplosivo miscuglio delle principali tematiche dell'avanguardia storica scaturisce una concezione dell'arte ironica e provocatoria costantemente tesa a negare qualsiasi valore ad ogni attività che presupponga il filtro della ragione passioni tensioni disagi disappunto ira devono essere espressi nel modo più libero più spontaneo e più violento possibile al di fuori di qualsiasi schema precostituito contro ogni regola normalmente accettato l'evento artistico svuotato da qualsiasi residuo valore formale si esaurisce pertanto con l'atto stesso della creazione in questo nuovo contesto assumono fondamentale importanza anche i materiali che vengono impiegati nell'atto artistico essi non sono più un semplice mezzo del quale l'artista fa uso al fine di esprimere le proprie idee ma al contrario diventano i protagonisti stessi dell'opera d'arte superfici rugose superfici butterate che richiamano alla mente sensazioni di spiacevolezza di conflitto oppure superfici morbide levigate che inducono più facilmente alla dolcezza e alla serenità ecco lo strumento è il messaggio se messaggio c'è coincide con l'opera d'arte nell'uno e nell'altro caso le due componenti fondamentali dell'informale si precisano nel gesto e nella materia il gesto viene fortemente enfatizzato già l'aveva fatto dada in quanto si ritiene il gesto l'unico vero momento creativo qualcuno dice l'unico l'arte non è dunque la pittura a presto